Enzo Rantò ha presentato il libro bianco, in sostanza si viaggia su due binari, da una parte vengono organizzati i convegni e dall'altra parte si dà la possibilità ai cittadini stessi di fare delle proposte su iniziative e su idee. Sì, assolutamente, noi abbiamo già improntato l'inizio del percorso con dei convegni, il primo ci sarà il 21 ottobre e sarà sulle comunità energetiche, però siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta e se arriverà qualche proposta da cittadini o anche da altre forze politiche, noi siamo pronti ad organizzare nuovi convegni e tavoli di lavoro per trasformare quelle proposte in proposte concrete per il nostro territorio, quindi ci sarà la possibilità di adattare alla nostra città qualsiasi buona idea che venga proposta alla piattaforma che noi come Movimento 5 Stelle mettiamo a disposizione di tutti. È un progetto trasversale, possiamo dire così? Assolutamente, non è un progetto per il Movimento 5 Stelle ma è un progetto per la città di Civitavecchia ed è per questo che noi abbiamo invitato tutti, ma veramente tutti a partecipare a questa iniziativa perché anche con gli ultimi avvenimenti abbiamo capito che solo in maniera compatta e unita si riesce a portare un risultato positivo e concreto alla nostra città. David Borrello ha presentato il Libro Bianco, già dal titolo si capisce che si tratta di uno spazio ancora da riempire con idee e progetti per Civitavecchia. Sì, infatti è proprio così, già dal nome Libro Bianco si capisce che questo progetto vuole aprire alla città, alle forze politiche tutte, al mondo imprenditoriale e anche datoriale, al mondo del lavoro. Vogliamo aprire appunto uno spazio di riflessione, uno spazio per Civitavecchia. E in questo Libro Bianco noi vogliamo mettere appunto le idee che vengono da tutti questi mondi affinché ci sia un riferimento per Civitavecchia. E' che quei progetti che molto spesso vengono annunciati ma solo nei titoli vengono poi invece declinati in tutti gli aspetti e diventano veramente un punto di partenza per la Civitavecchia di domani. Proprio per questo è stato già organizzato il primo convegno sulle comunità energetiche, il primo passaggio possiamo dire così, insomma. E all'interno di questi spazi si invitano sia appunto esponenti del mondo politico ma anche delle realtà che hanno già sviluppato progetti simili. Esattamente, cioè questo progetto inoltre non vuole essere soltanto appunto il titolo declinato ma vuoto. Questo è un progetto che vuole anche portare all'esperienza, cioè quei progetti che vengono poi declinati vengono anche fatti capire alla popolazione tutta come vengono poi attuati veramente sul territorio. Infatti nel primo appuntamento del 21 ottobre parleremo appunto come detto di comunità energetiche e non porteremo soltanto una visione, la grande rivoluzione che sta avvenendo in questo campo ma porteremo anche un esempio che sono delle comunità esistenti che stanno nascendo, in particolare porteremo l'associazione Procita Carbon Free che pronto ci parlerà appunto di come si declina questo progetto realmente sul territorio.